Chiamiamo argomento, parliamo di università, si pensa già al prossimo anno accademico e infatti questa mattina a Pisa ha aperto il centro matricolandosi. Con matricolandosi alvia le matricolazioni all'università di Pisa. Insieme allo sportello Welcome International Students accoglie ogni anno gli studenti italiani e stranieri che scelgono di iscriversi all'università pisana. Riparte matricolandosi ormai consolidata negli anni, con qualche novità quest'anno abbiamo un sistema di gestione delle code che stanno sperimentando dei giovani ragazzi. A cosa ti sei iscritto? Ingegneria informatica, come mai hai scelto questo indirizzo? Ho fatto un percorso all'ITIS con elettronica, però le mie aspirazioni puntano più sull'informatica perché alla fine ho seguito molto i sogni di Steve Jobs. Sono sempre stato bravo nelle materie matematiche e fisiche e quindi ho deciso di iscrivermi a fisica proprio perché è una mia passione. Come mai hai scelto Pisa? Essendo di Pisa, Pisa era la più vicina, ma ulteriormente anche perché l'informatica qua a Pisa è uno dei cavalli di battaglia. Perché secondo me Pisa è una città grande e molto avanzata nell'ambito scientifico e poi perché mi piace molto come città e quindi sono felice di venire. Quest'anno come gli altri anni, che cosa succede in questi giorni? In questi giorni i ragazzi arrivano matricolandosi, in 4-4-8 procedono all'immatricolazione nel loro corso di laurea, se ne vanno con il libretto, con la carta più. E troveranno tra l'altro un'offerta didattica arricchita perché quest'anno l'Università di Pisa offre due nuovi corsi di laurea magistrale che sono Bionics Engineering e un corso in Scienze della Nutrizione Umana.